Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo, Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù, da quanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre. Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me. Compie le sue opere. Credete a me. Io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro credetelo per le opere stesse. In verità, in verità io vi dico, chi crede in me, anche lì compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Filio. E se mi chiederete qualcosa, nel mio nome, io la farò. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.